Le ambulanze che vedete dietro di me sono parte di un piano di aiuti che la Croce Rossa italiana ha iniziato già dai primi giorni del conflitto in Ucraina. Queste ambulanze nello specifico andranno a rafforzare la capacità di risposta dei colleghi della Croce Rossa ucraina e verranno inviate già domani mattina sul territorio ucraino e fanno parte di un gruppo di ambulanze che sono di cinque che verranno inviate nelle prossime settimane. La Croce Rossa italiana sta rafforzando gli aiuti, i bisogni cambiano di volta in volta e di giorno in giorno in base anche alla situazione sul terreno in Ucraina. Manderemo ancora dei mezzi pesanti che faranno la spola tra la Romania e l'Ucraina proprio per accelerare l'invio degli aiuti. Fino ad oggi abbiamo traspirato circa 300 tonnellati di materiali, materiali di tutti i tipi, beni di tutti i tipi, sanitari, cibo, medicinali, coperte, tutto quello che in qualche modo serve come beni di prima necessità che ci vengono indicati sempre dai colleghi dell'Ucraina.